Buonasera, buonasera a tutti, come state? Tutto bene? Nuovo appuntamento con Aspasso tra le nuvole in compagnia di Marco Di Loretto. Buonasera a tutti, eccoci qui, quarta puntata della stagione, ultima di settembre e dalla prossima si andrà in quel di ottobre. Siamo entrati anche nell'autunno astronomico, quindi autunno pieno, tranne che del tempo che, vabbè, a parte la parentesi del weekend, ha fatto freschetto, ha fatto anche la prima fioccata dal franchetti in su, anche se purtroppo non è testimoniata perché nel frangente tempo c'erano le nuvole, volevo riprendere l'immagine. C'è stata una spolveratina sicuramente dai 2006-2007, quindi sarebbe il corno che ha messo cappello? Così sarebbe, tecnicamente. Vabbè, ma noi andiamo avanti. Come sarà? Non lo sappiamo, lo scopriremo. Lo scopriremo fra poco perché abbiamo prima l'appuntamento alla didattica. Le nuvole, dopo aver parlato di, insomma, di come si formano colori, eccetera, eccetera, iniziamo a parlare di una nuvola nello specifico. Una sola? No, parleremo di tante nuvole. Per oggi parliamo del cirro, i cirrus. Del cirro. Così, il nostro mitico farmacista inglese nel 1803. Ah, sì. Ti ricordi? Lo speciale inglese. Lo speciale inglese. Come si chiamava? Che si chiamava Luke Howard. Howard. Sì, nel 1803 diede questi nomi latini che sono stati ripresi e mantenuti. Dopo una pinta di birra, lui disse, questo è un cirro. Sì, quello è un cirro, un cirrus che era in latino ricciolo, quindi diciamo ricciolo. Oggi parliamo dei cirri. Vediamo. Allora, vediamo questa prima immagine, tra l'altro una foto scattata da me quest'estate. Da te stesso. Di cirri. Sono le nuvole innanzitutto più alte in assoluto. Si formano a 6.000, 7.000, anche 10.000 metri di quota. E sono leggere? Sono bravissimo, sono, diciamo, dei veli. Dei veli, delle cose, diciamo, quasi fibrose, così. Sì. Sono... Come i nervetti della bistecca? Sì, hai detto bene, dei piccoli veli, no? Setosi, diciamo così. Perché, diciamo... Ma quelli sono tutti cirri? Sì. Quella a sinistra più bianca? Sì, 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 sono tutti cirri. Poi, tra l'altro, assumono varie forme. Eh, perché il cirro è... È un po' particolare. Sì, un po' particolare, però adesso intanto inquadriamo le caratteristiche principali. Come detto, si forma oltre i 7.000 metri. Sì. Ha uno spessore, per essere una nuvola, piccolino, 300-400 metri. Vedremo che ci sono nuvole che anche di oltre il chilometro di spessore. Però, al di là di questo, è formato soprattutto tutto da cristalli di ghiaccio, perché formandosi a quelle altezze, a quelle altezze, temperature nettamente sotto zero, ma di parecchio sotto lo zero, la condensazione, che è il solito processo che sappiamo noi, per la trasformazione del vapore acqua, quindi dell'acqua allo stato gassoso, allo stato livido, o, in questo caso, allo stato solido, cioè il ghiaccio, e si formano questi microscopici cristalli di ghiaccio. Che sono trasparenti. Bravo, che sono trasparenti, perché? Perché sono, tra l'altro, per due aspetti, diciamo, da una parte perché sono abbastanza larghi tra di loro. Stanno comodi. Stanno comodi. Per cui i raggi solari riescono a penetrare abbastanza facilmente, e quelli che non penetrano, perché c'è la famosa riflettanza, ti ricordi? Eh beh. L'effetto di riflettanza, che è molto alto. Io lo stavo per dire. Stavo per dire. Sì, è molto alto, e quindi sono le nuvole praticamente bianche, bianche, molto bianche, trasparenti. I cirri. I cirri. Questi cirri, allora la cosa importante da dirci, si formano in media, normalmente, perché masse di aria calda si sollevano ad alta quota, incontrano venti molto violenti, molto intensi a quelle quote, 7-8 mila metri, e quindi tendono, diciamo, a formare questa, a creare questa condensazione. Ma, la domanda di ciò che mi vorrei, ma quando incontriamo i cirri, che cosa significa? Che dobbiamo fare? Che dobbiamo attenderci più di altro? Il Mesner, che ora gli stanno a togliere un 8 mila, quello su 8 mila li ha incontrati. Sì, sicuramente li ha incontrati. Ma la domanda, hai capito, se noi incontriamo questi cirri, che cosa dobbiamo attenderci di tempo? Che ci dobbiamo attenderci. E ci sono due situazioni differenti, in un caso sarà tempo stabile, quindi si manterrà la stabilità, e nell'altro, invece, arriva un fronte perturbato. Come distinguere i due casi? Come riconoscerlo? Perché quando abbiamo dei cirri isolati in cielo, quindi non, ecco, tipo, no, questo è un altro tipo dove lo vediamo fra un po', quando incontriamo dei cirri, diciamo, un po' isolati nel cielo, nel senso che il dominio è azzurro. Quello di prima? Quello di prima, esatto. Questo? Esatto, questo è un caso di cirro o di cirri che indicano stabilità atmosferica, cioè nel senso non arriva sicuramente bene. Statevi tranquilli. Quando invece incontriamo un gruppo di cirri che avanza, avanza... Quindi con questo bel tempo. Sì, quando invece, adesso li vediamo nei casi che... Ce l'abbiamo il cirro arrabbiato. Sì, ce l'abbiamo, diciamo, nel vedere le tipologie, vedremo anche, dopo te lo faccio vedere un attimo, e diciamo, normalmente i cirri avanzano quando sono segno dell'arrivo di una perturbazione. Come avanzano? Avanzano da sud sud-ovest, più o meno, e sono molto veloci in cielo. Se li osserviamo un attimo, li vediamo molto veloci passare. E camminano forti. Camminano e vanno a coprire la parte casomai serena. Il cirro. E sono anticipatori, appunto, di una perturbazione che arriverà nelle 24-48 ore circa. Ah beh. Ok? Quindi questa è la caratteristica... L'avanguardia. L'avanguardia. È una specie di sentinella che ci permette di inquadrare che succederà. Però, come detto, siccome in alta quota sono venti molto turbolenti, possono assumere delle forme particolari. Abbiamo visto quello uncinato. Esatto. Ti faccio vedere, esatto, i tre tipi di cirre più significativi. Il cirrus uncinus. Uncinus. Sì, a uncino, perché praticamente i venti sono così impetuosi che trasportano i cristalli di ghiaccio verso l'alto a forma di uncino. Sono dei capelli lunghi. Dei capelli al vento. Al vento. E questo è un tipo. Poi abbiamo il cirrus. Vediamo un po', se non mi ricordo l'ordine. Flocus. Vedi? Questi sono quelli che si possono... È più facile imbrogliarsi con altri tipi di nuve. Con le pecorelle. Con le pecorelle. Ma non c'entrano niente, perché se ci fai caso... Sono quasi le nuvolette della batteria dello sparo a colori. È bellissimo. Sì, ma poi si capisce bene che sono dei cirri. La batteria, sì. Si capisce bene che sono dei cirri, perché a parte il nucleo centrale che è un po' più denso, ma in realtà mantengono sempre quella setosità tipica del cirro. Ce l'hanno per te che sia esperto. No, vabbè, però, diciamo dai, si capisce. Io comunque un cielo così, sai quando l'ho visto? Sì. Mai. No, si vede? Sì, dai, succede. Succede. E poi abbiamo ancora un altro tipo di cirrus. Sì. Che è, vediamo un po', il castellano. Il cirrus... Lo sai perché? Perché, diciamo, in questo caso è un po' come quello uncinato, no? No, però mentre l'uncina è un filamento, qui è proprio un corpo nuvoloso che sale e il nostro amico ormai, Luke Howard, ai tempi l'aveva associato ai merletti dei castelli. Mr. Howard. Ai merletti dei castelli, da qui Cirrus Castellanus. Non di Valle Castellana, ma Castellano. No. Però io l'associerò da oggi a Valle Castellana. Esatto, va bene. Cirrus Castellanus. Cirrus Castellanus. E con questo abbiamo concluso la parte... Con i cirri. Con i cirri e con la didattica. Oggi la didattica... No, abbiamo un altro, il Fibratus. Ma il Fibratus lo stavi a lasciare. Però l'ho dimenticato. Il Fibratus. Cirrus Fibratus, che è, diciamo... Tutti Howard li ha fatti questi. No. Quella notte è là. No. Howard si è limitato a dire i cirri. I cirri. Ah, poi... Poi questo è frutto, diciamo, di analisi... I seguaci. I seguaci, no, no. E quindi questi sono, diciamo, dei filamenti, però, se ti fai caso, sono tutti paralleli l'uno all'altro, con lo stesso movimento. Del parallelismo, sì. Sì. E sono i venti impetuosi in quota che vanno verso l'alto e che muovono in qualche modo i cristalli di ghiaccio. Quindi tieni conto che il vento è come se fosse quello che muoce. Ma se un aereo passa lì in mezzo, se deve crepitare il ghiaccio? No. No, no. Ebbè, cosa... Sono i cristalli di ghiaccio che sono così... Etere. ...microscopici che neanche si vedono. Però messi insieme complessivamente, visti all'occhio umano, si riescono a vedere evidentemente... Mi sono piaciuti, Cir. Ti è piaciuto? Sì. Benissimo. Andiamo invece noi in... Andiamo in previsione e ci alziamo. Sì, ci alziamo. Esattamente. Io mi alzo. Anch'io mi alzo. Allora, previsione. Allora, eccoci qui. Previsione di mercoledì 27 settembre. Allora, siamo in questa situazione qui con l'Italia divisa a metà, nel senso che abbiamo la circolazione ciclonica... Sì, alla silva. Abbiamo una circolazione ciclonica con il perno qui a sud della... Sì, sì, lo vedo il perno. Ecco, lo vedete il perno. Lo vedete il perno? Esatto, quel minimo. C'è un fisher. Si tratta di una circolazione ciclonica in quota che però favorisce ancora forte maltempo al centro-sud, soprattutto al sud Italia. Eh, non ci fa più. Sia oggi che, appunto, in questo caso nella giornata di domani. Noi abbiamo, siamo ancora sotto quelle correnti da nord-est, no? Guarda qui, siamo proprio ai limiti tra il promontore anticiclonico... Noi come Abruzzo. Noi come Abruzzo. Qui c'è il promontore anticiclonico che avanza addirittura fino all'Europa proprio dell'est. Sì. E noi siamo proprio ai margini. Infatti abbiamo ancora correnti orientali, ma non abbiamo più i contrasti, le precipitazioni come abbiamo avuto sabato, domenica, qualche cosa. Domani non ci dovrebbero essere precipitazioni. Domani non dovrebbero esserci precipitazioni. Vediamo subito la mappa delle precipitazioni per farti capire che i fenomeni si concentreranno all'estremo sud. Vedi Sicilia, Calabria, in malapena la Puglia, ma principalmente proprio perché il vortice si trova in basso... Si è attardato una nuvoletta sul Gargano. Sì, sul Gargano, quella la nuvola di Fantozzi. Mentre invece sul resto della penisola il tempo è innanzitutto senza precipitazioni. Diciamo che sulle regioni centrali adriatiche ci può essere maggiore nuvolosità, qualche contrasto in più, qualche nuvoletta in più... Niente assolutamente niente di che. E ovviamente temperature anche in ascesa, soprattutto nelle regioni del nord. Infatti, guarda, ho messo una mappa sia a livello nazionale... Ah, dell'Italia intera. Sì, perché lo sai che c'è, ci sono, abbiamo, senza... ho scoperto che ci sono tantissime persone anche da fuori Abruzzo che ci... Che ci seguono. Che ci seguono. Che ci seguono. E c'è stato un signore... Dell'Alto Adige. Sì, no, tu ci scherzi, un signore... No, no, io non ci scherzi. Si chiama Giovanni e vive... Di dove? Non mi ricordo il paese ma in provincia di Parma. Esaltami. In provincia di Parma, non mi ricordo... O siamo, io lo voglio in Alto Adige e in Valdetta da ora. Non so se tramite il gruppo di Bruno De Ruo sei un fungaiolo, non lo so, perché... Comunque, fatto sta che mi ha scritto in privato e mi ha detto ma perché quando metti in evidenza le temperature non metti anche quelle italiane? C'ha ragione il Parmen. Qui allora... C'ha ragione. In parte... E quindi facciamo vedere a Parma che temperature c'è. A Parma abbiamo sui 27-28 gradi, eccolo qua. Sì, mettiamo a schermo intero, va, l'Italia. Sì, sì. Diamo merito alla nazione. Diamo merito alla nazione, visto che siamo seguiti anche fuori. Oh, ecco. Eccolo là, perfetto. Allora, quindi abbiamo... Sui 27-26 sta Parma, dai. Possiamo da approccio vedere come le temperature più alte... Queste sono le massime di domani. Le massime di domani alle ore 14. Abbiamo valori estivi praticamente, 28-29 gradi nella zona della Sardegna, del Lazio, Campania, Toscana e così via. Anche nel nord Italia. Noi, inteso come Adriatici... Eccoci qua. Invece, e anche al sud, temperature paradossalmente più basse, proprio perché abbiamo quell'effetto di circolazione da... Il nord ha temperature più alte, vedi. Nello specifico, andiamo a vedere... Nell'Abruzzo. Nel caso nostro, abbiamo, vedi, nelle zone collinari 24-25 gradi, più o meno, e qualcosina in meno nelle aree aquilane. Quindi, diciamo, temperature miti, ma non calde. Anche domani, un po' come oggi, per capirci. Velocemente andiamo al giovedì. Sì. Vediamo che cosa accade. Ah no, abbiamo, giustamente... Ah, le minime. Per una volta posso vedere anche le minime. Sì, Pietro ha la scaletta, io invece me la dimentico completamente, è vigile. Allora, sempre con la doppia schermata Italia-Abruzzo, abbiamo temperature che quasi in tutta l'Italia andranno a finire questa notte. Le minime. Le minime, quindi questa notte, diciamo, questa è la mappa delle ore 5 dove... Questa è di mercoledì-giovedì. La notte è di mercoledì e giovedì. Sì, giovedì alle ore 5. Sì. Vedi, lo scritto sotto. Quindi vicino all'alba, quindi diciamo nella zona... Il periodo dovrebbe avere proprio i valori più bassi, con temperature che sono inferiori ai 20 gradi praticamente in tutta Italia, se si fa eccezione per qualche valore sulle zone di mare della Puglia, anche dell'Abruzzo. Sì. Nello specifico da noi, ecco, lì abbiamo temperature già piuttosto rigide, vedi nell'Aquilano... Eh sì, 8 gradi. ...si scende anche sotto i 10. Nelle zone collinari tra i 13 e i 15 gradi all'incirca, sulle zone costiere sui 20, 19, 20, 21 gradi, insomma. Come dicevo, passiamo invece a giovedì come mappa barica, quindi andiamo a vedere la circolazione generale. Non cambia di molto, se non che la circolazione ciclonica, come vedi, la B l'ho fatta un po' più piccola, perché inizia a perdere un po' di energia, un po' di forza. Sgonfia. Si sgonfia. La circolazione però continua ad essere nord-orientale, soprattutto anche da noi, quindi diciamo più o meno lo schema di mercoledì si ripete. Si ripete. A livello invece di barico da sottolineare questa altra figura. Quella A? Quella A, diciamo, lì è un blocco unico che va da lì fino a praticamente qui alla Russia europea. Sì. Però questa parte qui in basso si gonfia sempre più, diventa più possente. Che ci vuole dire? Anche quella colorazione, se vedi colore rosso, arancio, inteso, indica che appunto aria sempre più calda, subtropicale, inizia a risalire soprattutto nella penisola iberica. Sì. Noi con il fatto di quella circolazione ciclonica sulla Grecia siamo ancora, diciamo, borderline per quanto riguarda gli effetti caldi. E infatti andiamo a vedere non la mappa delle piogge perché praticamente da qui a domenica non c'è nulla, nel senso che fino a venerdì precipitazioni più o meno nella zona della Sicilia, della Calabria e il resto d'Italia sgombro. Quindi non facciamo vedere nulla. A livello invece di temperature, le temperature si manterranno sempre più o meno sugli stessi valori. Sì. Temperature più elevate. Mentre invece nelle zone orientali, ancora soggette ai venti orientali, temperature leggermente più fresche o meno calde se vogliamo. Andiamo avanti. A questo punto possiamo veramente passare alla giornata di venerdì, le minime saranno identiche, simili, perciò non le ripetiamo. Nella giornata di venerdì, come si può osservare bene, la circolazione, seppur blanda, continua a insistere allo stesso modo. E per quanto riguarda l'Italia, principalmente è interessato il sud Italia, ma in parte ancora, diciamo, l'Abruzzo è il centro. Mentre invece si è sgonfiata quel massimo di pressione lì nell'est europeo e invece continua a rinforzarsi l'anticiclone nella parte bassa dell'immagine. Nella zona della penisola iberica e Marocco è meglio che con te, devo essere lì, perché se no tu vai sempre a un'allusione. Vai in automatico. Vai in automatico. Comunque diciamo che l'Ansanticiclonica, il promontore, avanza anche sul nord Italia, prende praticamente tutta la nostra... E quella arriva per il fine settimana? Quella poi vediamo, pian piano, pian piano. Ci siamo quasi. Quindi situazione direi più o meno statica, non cambia di nulla e anche a livello di temperature nulla di particolare. Ecco, ho messo soltanto la mappa abruzzese perché a livello italiano è la stessa... Non ce ne vogliano in Val d'Aosta, però era quella. Poi ritorneremo domenica facendo rivedere anche la temperatura italiana. A questo per dire che le temperature rimarranno stazionate in Italia e anche in Abruzzo. Quindi valori più o meno simili. È similissimo. Un solo particolare, siamo arrivati in quella fase della stagione, quindi autunnale, in cui i valori del mare, alle zone costiere, sono simili a quelli della collina. Ah. Perché ti ricordi abbiamo... E c'è il suo perché. E c'è il suo perché, perché le temperature del mare sono abbastanza equilibrate, sono ormai temperature calde del mare. Temperature del mare e della costa, non? Sì, il mare si accosta, ma anche del mare come acqua, nel senso che sono valori diciamo abbastanza elevati e quindi non c'è più quella differenza netta che invece in estate paradossalmente si evidenziava di più perché le temperature del mare erano ancora tra virgolette più fresche, soprattutto maggio-giugno. Particolare così. C'è, c'è. E niente, a questo punto invece possiamo andare con la sigletta. Quest'anno che premiamo? Andiamo nel 2013. Sì. Prima in classifica. Il 26 settembre del 2013 era una canzone straniera di un DJ svedese, Avicii, ed era questa. La ricordi? La ricordi, sì. Dai, questo è stato un successo internazionale, non solo europeo, ma addirittura mondiale. Avicii, Wake Me Up, è che praticamente ha dominato la scena di tutto quel 2013, soprattutto dall'estate in poi. E il 26 settembre del 2013 appunto, domenica, era il primo posto in Italia. Dal prossimo anno, sì, dal prossimo anno, dalla prossima puntata, cioè ottobre, torneremo dal 73 e poi saliremo piano piano di 10 anni. Andiamo a vedere, quindi a questo punto torniamo alle previsioni e andiamo a vedere la mappa di sabato. Eccola. Ecco, la mappa di sabato, quello che mi dicevi, ma questa qui avanza, eccola qui. Quella lì avanza. Eccola qui che dalla penisola iberica avanza verso la Francia, verso il Mediterraneo occidentale. Da noi c'è ancora questa B che in parte interferisce, ma molto poco. E soprattutto che siamo in pieno anticiclone, ma da notare questo aspetto, che le frecce gialle, cioè la circolazione anticiclonica, ricordo di nuovo, è sempre oraria. Ecco perché si muove attorno alla A in senso orario e di conseguenza noi ci ritroviamo proprio nella parte estrema dell'anticiclone e abbiamo correnti che pur essendo anticicloniche, ma sono settentrionali. Eh sì. Vedi, vengono da nord. E di conseguenza anche sabato avremo temperature che sono tutto sommato miti, non esageratamente calde. Infatti vediamo la mappa... Sarebbero state più calde. Sì, se fossimo stato dentro la A per capirci, potremmo aver avuto delle temperature decisamente più alte. Eccole. E infatti cambia ben poco, sì, 26 gradi nelle zone collinari, ma nulla di che, insomma. Ovviamente per essere fine settembre sono temperature più alte della norma. Altice? Sì, di 3-4 gradi più alte della norma, però non eccessivamente calde, quindi insomma farà caldo, ma in modo, io direi, piacevole. Beh. Non abbiamo detto nulla per quanto riguarda... Non ve lo diciamo. No, glielo diciamo, dai. Che cosa? Che sarà bel tempo, abbiamo dato per scontato che sarà cielo sereno, sgombro da nuvole, qualche nuvoletta, qualche cirro. Qualche cirro, ma a 7-8 minuti. Ma quelli di stabilità. Ma quelli trasparenti. Quelli chiamati cirri di bel tempo, no? Cirri di bel tempo. E quindi diciamo nulla di che. Però potrebbe essere piacevole osservarli. E adesso domenica. Andiamo con domenica. Domenica ecco che la A continua ad avanzare. La A guadagna terreno. Sì, guadagna terreno verso di noi e come vedi anche la colorazione arancio avanza terreno. Però ancora non ci termisce. Non arriva il rosso che indica temperature pienamente estive. Però sicuramente qualche grado in più lo andiamo rosicchiando. Non c'è più nessun effetto B, qui, come vedi. Effetto B. Effetto B. Però noi siamo sempre nella parte orientale dell'anticiclone. Quindi comunque il tutto è sempre un po' stemperato. Cioè rispetto per dire alla Spagna, alla Francia, che vivranno temperature pienamente estive, noi saremo un pochettino più smorzati. Infatti se vediamo la... No, prima forse vediamo, non mi ricordo... Non lo so, vediamo che cosa vediamo. Sì, ecco. La mappa ha tutto schieno. Torniamo agli amici... Agli amici parmigiani. Della nazione. Allora, vediamo un po'. Le temperature, come vedi, si inizia a vedere anche qualche 30. Sempre nella zona toscana, nella zona sardegna. Ma diciamo che le temperature diventano piuttosto equilibrate in tutta la penisola. Quindi l'effetto correnti da nord-est delle zone adriatiche è praticamente scomparso. Mi sa che in Umbria fa 30, eh? Sì, anche da noi... All'interno. Anche a noi lo sfioriamo. Vedi la mappa nostra, abbiamo nelle zone collinari anche i 28 gradi. Quindi diciamo... Questo domenica, belle passeggiate in montagna. Assolutamente, weekend bellissimo, tempo soleggiato, temperature più che gradevoli. Da poter andare in montagna, in collina, al mare, dove volete. Anche al mare si può andare tranquillamente senza problemi. Quindi sarà veramente un inizio di ottobre, visto che è domenica, primo ottobre. Eh sì. Un inizio di ottobre decisamente piacevole. Diciamo che è la famosa ottobrata. La ottobrata. Se non ci fosse stato un settembre così caldo, avremmo proprio classificata come ottobrata. Invece sarà, diciamo, un prosieguo, se vogliamo, della fase piuttosto anticiclonica che sta dominando la scena dell'ultimo mese. Che dobbiamo far vedere ancora? A questo punto direi che possiamo andarci a sedere perché ci sono gli sfagi meteo. Ah, sediamoci. Yes, siamo abbastanza nei tempi, anzi abbondantemente bene nei tempi. Allora, che cosa vediamo? Possiamo dire che al di là di questa settimana, che abbiamo detto soleggiata, mite, eccetera, il bel tempo proseguirà anche per buona fetta, buona parte della settimana prossima, anzi direi quasi tutta. Fino al 4 ottobre. Io dico, fino al 4 ottobre, non mi sono spinto oltre, ma probabilmente anche il 5, il 6 potrebbe essere ancora bellino, perché dopo il 4, come vedi, le curve iniziano a essere un po' più vivate. Tu dai ipotizzi che cominci a piovere? No, non è che cominci a piovere. Diciamo che ci sono più chance, forse dal 7 ottobre in poi, però diciamo che il 4-5 inizia a avere, dovremmo avere i primi segnali, diciamo, che indicano questo anticiclone che va a scricchiolare per poter cedere spazio alle perturbazioni atlantiche, quindi all'autunno un po' più dinamico, quindi più piovoso, meno, più fresco anche, temperature che potrebbero tornare, come vedi, verso la norma, quindi una situazione un po' più stabile. Proseguiamo e concludiamo le previsioni andando a vedere le solite mappe del modello europeo proiettate ancora più in là, quindi andiamo alla settimana 9-16 di ottobre. Scialiamo. Scialiamo, come sempre, andiamo con questa proiezione che non ci dice nulla di che tempo sarà, però ci dice che le temperature continueranno a essere molto miti per il periodo, che significa, non significa che avremo sempre i 27-28 gradi, potremmo averne i 24-25 che comunque per essere ottobre continuano ad essere molto miti. Male non è, sono miti. Sono miti. Per quanto riguarda l'altra mappa che invece ci indica le precipitazioni, queste sono mappe che indicano l'anomalia rispetto alla normalità, quindi, e da qui si può evincere che mentre buona parte dell'Italia è in bianco, cioè significa nella norma, significa che ci saranno probabilmente precipitazioni, non esagerate ma ci saranno, mentre il sud potrebbe essere più asciutto. Questo tipo di mappa a me fa pensare che potrebbe appunto esserci spazio per le, come si intravedeva anche dagli spaghetti, per le prime perturbazioni atlantiche, perché se ci fai caso tutta l'Europa, centro-nord e anche parte dell'Italia è appunto nel bianco. E quindi ci potrebbe stare? Probabilmente si apriranno le porte atlantiche. Perturbato. Perturbazioni dal nord atlantico, dalla Francia, dall'Inghilterra che punteranno anche in parte verso l'Italia, perlomeno nel centro-nord. Questo è il quadro e ora concludiamo con una chicca, ma veramente simile, ma che ti dico, guarda un po', dici che c'entrano i violini? Violini stradivari, unici, grazie? Alla piccola era glaciale. Ma dai, che mi vuoi dire? Allora, che ti voglio dire? Ti racconto questo fatto. Cioè il legname che è stato utilizzato? I violini stradivari, che sono ovviamente famosissimi, stavo leggendo stamattina addirittura l'ultima, nell'ultima asta, è stato venduto un violino stradivari alla bellezza di 15 milioni di euro, quasi 15 milioni di euro. Do you feel the money? La senti l'aria? E perché appunto i violini stradivari hanno... Sembra un'isola lì, no, non l'hai rappresentato in un'isola. No, 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 penso che sia... Nel mare, lo stradivari, no. No, no, no. Quindi? Praticamente questi violini stradivari che sono, diciamo, unici per il loro suono unico, per il loro timbro particolare, stradivari che era, diciamo, che è diventato famoso perché... Siamo nel 1700. Siamo a fine 1600, inizio 1700. A cavallo. Stradivari ne ha prodotti, pare, più di 650 di violini, poi tra violoncelli e altro è arrivato... Stradivari, quello faceva. Quello faceva, ma la particolarità qual è? Che costruiva i violini con il fondo con l'acero, che andava a prendere nei Balcani, penso nell'ex Jugoslavia, diciamo così. Radivari dove stava lui? Cremona. A Cremona. In provincia di Cremona, in paese adesso... Lui partiva, uomo degli emissari. Lo so, sì. E andavano nei Balcani a prendere l'acero. Mentre la parte più importante... Acero montano? Probabile. L'acero, sì. Mentre la parte più importante, e cioè quello della Beta Rosso, la Cassa, i bordi, eccetera, lì andava a prendere in Val di Fiemme la Beta Rosso. La Beta Rosso. La Beta Rosso. E qui... Cascalasino. Cascalasino del clima. È nostra divari, l'asino. Perché? Perché in quel periodo, fine 1600, inizio 1700, no, eravamo in piena piccola era glaciale. Faceva freddo. Faceva, non faceva freddo, faceva freddissimo. Faceva, faceva, girava... Giusto per capirci, in quel periodo, in inverno, gelava la Laguna Veneta. Addirittura. Il Po gelava. E perché il segreto? Perché il segreto... Che cos'era, Rosso? La Beta Rosso. La Beta Rosso. Il freddo gli dava quel suono diamantino. Perché, praticamente... Era musicale. Sì, perché in quel periodo, oltre al freddo, fu un periodo fortemente piovoso, con copertura nuvolosa abbondante. Quindi l'attività, diciamo, dell'albero, l'attività clorofiliana dell'albero, era molto ridotta. Ah. E gli anelli degli alberi, gli anelli, erano molto corti, stretti, compatti e elastici. Ma non se ne sono affilati. E lo Stradivari lo sapeva. E lo Stradivari lo sapeva. No, il bello è che lo Stradivari non lo sapeva. Non lo sapeva. Non lo sapeva di che cosa stava accadendo. Però, tieni conto che... Arrivavi... Tu pensa che in quel periodo... Stava solo arrabbiato perché faceva freddo. Sì, faceva un freddo incredibile. Però, praticamente, il vero segreto sembrerebbe essere proprio nel legno. Ecco perché poi i violini non sono stati più possibili... Tu avvisami quando arriva la prossima piccola regola. Cioè, noi ci mettiamo a fare i violini. Ci mettiamo a fare gli utai. Sì, può essere. Sì, perché no? Comunque, sembrerebbe una ipotesi molto logica che possa essere proprio questa. Ma è pure logica, ma è molto bella. È molto bella. E sapevo che ti sarebbe piaciuto. Ci piace forte. Ecco, concludiamo la nostra puntata con l'angolo dei record. E ce ne andiamo in... Azzano Decimo. Azzano Decimo. Pordenone. Sì, Pordenone. Giustamente la cartolina mi sembra carina farla. Sì. Per non... Che succede azzano Decimo? No, che succede? Il record, tra l'altro abbastanza fresco, del luglio, no, del luglio, sempre mantenendosi sulla linea del chicco di grandine, è stato battuto il record europeo. Di che? Del chicco di grandine. Ah, ad Azzano. Più grande, sì. Eccolo qui. Guarda qui, misurato, 19,46 centimetri. 24 luglio, mo'. Esatto. 24 luglio 2023. 24 luglio, poi la cosa... Azzano Decimo. Il chicco di grande è più grande, è di taglio. Quando è caduto, drang, te subito ha fotografato. Solo in questo modo puoi ufficializzare il chicco, se no... Va bene, guarda un po'. È bellissimo, è fantastico. Quindi noi a livello climatico stiamo battendo i record non solo italiani ma anche europei. ormai siamo fermati. Bravi, bravi. Ok. Agli amici di Anzano Decimo. Concludiamo qui la puntata. Sì, ci vediamo la settimana prossima. Yes, sarà ottobre. Arrivederci. Buonasera a tutti. Arrivederci. Arrivederci. Sì, ci vediamo la prossima.